quante sono le persone che dormono in strada a roma sabato 20 aprile dalle 19 alle 24 torna la notte della solidarietà iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche sociali alla salute di roma capitale in collaborazione con istat per lo studio delle persone senza fissa di mora sul territorio comunale l'iniziativa segue la prima indagine pilota dello scorso anno che ha visto la partecipazione di 200 volontari insieme a studenti dell'università di torvergata obiettivo è fare un censimento delle persone senza tetto che vivono per strada in sistemazioni di fortuna o nei dormitori e nelle strutture di accoglienza allo scopo di rispondere in modo più efficiente e puntuale ai loro bisogni per entrare a far parte della squadra bastano pochi passaggi visitando il sito www.nottedelasolidarietà.it e cliccando su partecipa anche tu si avrà accesso al modulo da compilare per l'iscrizione i volontari saranno suddivisi in squadre e la partecipazione è aperta a tutti per le informazioni è possibile anche contattare la segreteria organizzativa da lunedì al venerdì dalle 9 e 30 alle 17 oppure inviare una mail a volontari chiocciola nottedelasolidarietà.it diventa anche tu un volontario